Euro Regione News Nozze d'oro per il Consiglio regionale Il 26 maggio 1964 il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia si riunì per la prima volta nell'Aula del Consiglio Comunale di Trieste, primo atto istituzionale della nostra regione, il cui statuto speciale era stato approvato da poco più di un anno. A 50 anni di distanza da quell'evento, il Consiglio regionale proporrà una serie di iniziative che sono state presentate dal Presidente Franco Jacop. Il 26 maggio prossimo si terrà una seduta solenne del Consiglio regionale, alla quale sono stati invitati il Presidente Napolitano, che daranno a risposta i primi di aprile e le più alte cariche dello Stato. Non sarà una seduta prettamente celebrativa, tenuto a sottolineare il Presidente Jacop, richiamando in causa i temi su cui si giocherà il futuro del sistema istituzionale, in particolare la specialità del Friuli Venezia Giulia. 50 anni di specialità all'interno di un paese, vissuta con dei presupposti che erano quelli di un miglioramento del proprio benessere, di una tutela assoluta. In 50 anni cos'è cambiato? Avete ascoltato Euroregione News.